Sabato la tregua, ma ieri è tornata la neve sui rilievi della Capitanata, una coltre bianca si è posata sul Gargano e sui monti Dauni. Interessati i comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo sul Gargano e quasi tutti i centri del subappennino Dauno, da Bovino a Panni, da Castelluccio Val Maggiore a Faeto e Roseto Val Fortore, dove si registrano le precipitazioni più abbondanti. Nevicata copiosa anche sulla foresta Umbra, dove il manto ha superato i 5-6 centimetri. Non si sono registrate difficoltà alla circolazione stradale grazie al pronto intervento di mezzi spazzaneve e spargisale. Temperature rigide un po' ovunque, meno 4 a Monte Sant'Angelo e meno 3 sui monti Dauni. Da oggi netto miglioramento, le temperature sono in risalita anche di 6-7 gradi. Tanto freddo, ma pochi problemi sul resto della regione. Grazie a tutti.